buongiorno pensavate che non ci fossi è bene oggi siamo un po di corsa ma ci siamo ci siamo siamo qui siamo pronti a partire good morning milano crystal radio eccoci qui in diretta come sempre sui 96.2 fm e tutto il resto che poi dopo vi racconto per bene ma insomma siamo qui ancora per fortuna al momento sembra non piovere quindi oggi abbiamo questa notizia diamo che non piove poi nel giorno nel corso della giornata prevedremo comunque 3317853555 il nostro numero di whatsapp scriveteci e fateci sapere un po invece come va la vostra giornata la mia è bella intensa ed è già iniziata di corsa ma sono qui e sono contento di essere qui con voi condividere insieme la giornata è sempre una cosa bella è sempre insomma il modo migliore per iniziare la mattinata qui a milano ma non solo insomma sapete che con il dub plus ci potete ascoltare in tutta la lombardia e ben venga grazie anzi perché ci ascoltate sempre quindi grazie mille e iniziamo con un po di musica bonnie tyler total eclipse of the heart fino all'ultimo fino all'ultimo respiro fino all'ultimo sospiro fino all'ultima eclisse che ci riempie il cuore questa mattina qui alle 7 e 15 minuti su crystal radio good morning milano giovedì 16 maggio come è andata la giornata ieri disastro disastro ieri seveso che ha esondato nonostante la vasca quindi tutto quell'entusiasmo che c'era sulla vasca si è reso e poi la vasca inutile non è inutile no però nel senso comunque c'è tutto questo entusiasmo e poi alla fine comunque l'acqua è esondata in zona niguarda ricordiamo sempre che esonda in zona niguarda perché si fa esondare in zona niguarda tra parentesi attenzione perché sennò l'acqua arriverebbe giù in centro ma volvuria mai riempire le cantine di chi abita in centro nel senso che non è una questione veramente complicata e anzi veramente brutta perché siamo qui a fare la guerra tra poveri o meglio tra milanesi quindi tanto poveri non siamo però nel senso tra tre cittadini c'è la guerra e tre cittadini dobbiamo scegliere se far allagare le case di quelli che abitano all'isola quelli che abitano nel chiodo gioia oppure far allagare quelli che abitano a niguarda che abitano in via le marche capito dobbiamo scegliere questa roba qui cioè è assurdo che siamo ancora a questo livello nonostante appunto la vasca ieri abbiamo sentito il video con l'assessore granelli entusiasta ha detto la vasca sta funzionando e questo salverà milano poi alla fine non è stato così anzi alla fine poi granelli è uscito arrabbiato con regione lombardia perché devono essere fatte anche le altre vasche se no non ha senso verso loro la nostra capito vabbè tra parentesi c'è di mezzo anche il comune delle altre vasche non è solo regione lombardia quindi come sempre fare la polemica sterile un po' inutile o meglio un po' partitica soprattutto tutte lezioni insomma sulla pelle ma soprattutto sull'acqua che entra nelle case dei cittadini milanesi non mi è piaciuto tanto devo dire la verità e vabbè vabbè grande problema ieri l'acqua spero che veramente voi siate tutti all'asciutto tears for fears shout alle 7 e 22 minuti ed eccoci allora a prendere in mano le pagine dei giornali principali uscite in edicola e sui siti internet di questa mattina non è facile fare il riassunto di quello che è successo ieri perché davvero una giornata campale per milano in realtà la fa molto bene alberto con il suo whatsapp della mattina al 331 78 53 555 dove ci scrive un saluto agli amici di crystal radio in ascolto e al buon fabio che ci tiene compagnia e ci informa buongiorno a te alberto dopo la giornata di ieri complicata non solo dalla pioggia ma anche dal blocco di trasporti in centro per un evento musicale privato mi piace questa sua molto democristiana mi piace molto devo dire pulita 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 diplomatica ok speriamo che oggi le situazioni migliori le previsioni sono comunque di altra pioggia e allora iniziamo proprio con le previsioni del tempo che dicono che in teoria fra dieci minuti neanche dovrebbe iniziare di nuovo a piovere leggero leggera pioggia ok in leggera pioggia intensità 2 su 12 si arriva fino all'intensità di 3 su 12 nella mattinata ma intorno alle 11 dovrebbe leggermente smettere ok dovrebbe smettere fino alle 3 quando arriva un temporale definito molto forte quindi alle 3 fatevi trovare al chiuso che è meglio e poi dovrebbe lasciare strasci però di pioggia fino a sera perché le schiarite che non so se chiamano schiarite oscurite in quel caso arriveranno solo dopo la mezzanotte verso le due del mattino del domani buongiorno anche adriana che ci scrive buongiorno fabio al 331 78 53 555 grazie mille di averci scritto anche tu noi siamo qua appunto anche per raccontarvi un po quello succedendo situazione dei fiumi sono i fiumi che ieri ha visto davvero cioè non so da che parte iniziare a raccontarvela nel senso che vi leggo velocemente alcuni titoli corriere maltempo a milano la condanna dei fiumi seveso e lambro la vasca regge per 10 ore poi l'esondazione asili evacuati autostrade chiuse pioggia record allagamenti città centinaia di interventi dei vigi del fuoco attenzione a questo record perché in realtà sì e no nel senso che non è la prima volta che viene qualcosa del genere non è la prima volta che maggio è così tanto fiovoso quindi insomma attenzione a usare questi termini pioggia senza sosta milano esonda anche il seveso in mattinata è riuscito l'ambro scuole vacca evacuate linee ferroviarie in ginocchio questa è invece repubblica milano repubblica milano che mette anche un video di come maltempo a milano allagamenti a ponte l'ambro i soccorsi dei vigili del fuoco con i gommoni scene veramente difficili da digerire devo dire nel pensare che siamo semplicemente semplicemente in una città come milano cioè tutto dovrebbe funzionare eccellenza come facciamo noi milanesi no ecco invece no e poi appunto quel famoso evento privato in duomo di cui parlava alberto prima il concertone in piazza duomo milano e dopo devo leggere magari più nel dettaglio quello che è successo intitola con la bomba d'acqua su piazza duomo il silenzio di gali noemi effetto bioncè in piazza del duomo il maltempo non ha fermato l'esibizione dei big della musica più di 10.000 persone ha assistito allo show sotto la pioggia torrenziale e quindi poi sotto ecco le curiosità i look e gli imprevisti della serata quando invece ha chiesto gali ha fatto un pezzo molto interessante un grandissimo silenzio a tutta la piazza e questo è l'unico silenzio che dobbiamo avere rispetto appunto per parlare del tema del guerra gaza e poi invece adesso facciamo sentire la nostra voce su questo tema comunque proprio appunto questo era solo un indice di quello che è successo a milano ma poi vediamo un attimino ancora meglio come anzi va il traffico in questo momento cesare cremonini la ragazza del futuro sempre qui good morning milano buongiorno ancora tutti e tutte come state come va 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il numero di whatsapp a cui potete scriverci ieri ci aveva scritto ad esempio marilena dicendo un po la sua sull'idea del concertone in piazza duomo lei che lavora oltretutto lì in zona e invece ha riscritto questa mattina dicendo buongiorno fabio comunque ieri hanno organizzato bene pochi disagi ero partita prevenuta complimenti all'intelligenza di marilena che insomma torna e ammette quando magari uno è prevenuto e tutto ripeto che non è che sono prevenuto cose anzi sono contento che facciano le cose fatte bene c'è il problema che secondo me non vanno fatte è diverso però quello è un altro discorso bell'articolo di chiara baldi su corriere della sera milano che inizia con una domanda io non amo mai i titoli che iniziano con una domanda ma in questo caso è ben serve perché la domanda è perché milano va in tilt con la pioggia la gestione dei tombini e il nodo del traffico qui arriva l'acqua di mezza lombardia parole dell'assessore alla sicurezza di milano marco granelli che dice cosa fare nei giorni di precipitazioni intense lasciare l'auto a casa e utilizzare i mezzi pubblici devo dire che granelli effettivamente è una cosa che uno dice vabbè ma come la gente fa il contrario però effettivamente bisogna fare quella roba lì ha ragione nella stessa storia su questa cosa qui sapete che io non gli vado conto quando posso sono le basche non siamo minimamente d'accordo ad esempio però in questo caso ha ragione nel senso che effettivamente i giorni in cui piove sarebbero i giorni giusti per utilizzare i mezzi pubblici il problema è che ieri metà dei mezzi pubblici erano fermi o bloccati o ribaltati non potevano passare cioè Ponte Lambro era completamente sott'acqua i tram alcune linee di tram non potevano girare perché c'erano i rami sulle linee dei tram sulle linee aeree elettriche i treni sono disospesi praticamente in mezzo a Lombardia e quindi non era molto facile alla domanda assessore che cosa sta succedendo a Ponte Lambro ieri appunto alle vediamo più o meno a che ora erano pomeriggio non c'è un orario l'assessore risponde in questo momento via rilche e allagata ci sono circa 50 centimetri d'acqua in strada e sono finite sott'acqua anche le cantine i pianterreni e i box come comune abbiamo messo a disposizione uno spazio per aiutare i residenti i vigili del fuoco e protezione civile stanno aiutando tante persone tra cui anche alcune con disabilità il problema è che la situazione possa peggiorare il problema è che finché il Lambro non scende è difficile spostare l'acqua e evitare che le situazioni appunto peggiori poi ha detto altrimenti altre sondazioni dice adesso la vasca del Seveso ha fino adesso evitato le sondazioni di guarda ma quando sarà piena dobbiamo trovare il modo per evitare sondazioni i tecnici hanno lavorato tutta la notte per sbottarla ma la situazione potrebbe peggiorare e infatti poi è quello che è successo perché poi dopo un certo punto appunto la vasca è arrivata al colmo e a quel punto non si sapeva dove si poteva andare giustamente Alberto invece ci dice bene bene cioè sul tema degli usati mezzi pubblici dice però attenzione ieri pioveva e i mezzi pubblici non passavano dal centro per il concerto e la fermata Duomo della MM era chiusa e c'è anche questo da dire effettivamente nel senso che l'idea è giusta cioè appunto l'assessore Granelli ha detto questa cosa se piove è il giorno giusto e dovete usare i mezzi pubblici non tirate fuori le macchine sono incasinate la città non l'ho usato incasinare ma lo dico io è vero però poi c'è questo problema che ieri era praticamente impossibile girare a Milano con i mezzi soprattutto poi per questa cosa che i mezzi non per forza bastare dal centro che anche lì io c'avevo tutto un mio ragionamento però questo lasciamo stare a parte del 90-91 che girano fuori quasi tutti gli altri sono centrici quasi tutti vanno verso il centro poi ci sono zone quartieri faccio un esempio se da san siro devo andare a giambellino l'orienteggio non è facile per non andare verso il centro poi ritornare fuori non ho delle situazioni che tagliano per il lungo nonostante la 49 ma comunque Tones and I Dance Monkey 7.45 minuti oggi è giovedì sapete che il giorno giovedì abbiamo Tamara Malleo per parlare di teatro che di sotto arrivano le 8 5 invece oggi le abbiamo chiesto di venire un po prima perché dopo abbiamo una sorpresa per voi che siete d'ascolto ma ve lo diciamo dopo anzi la sorpresa avere Tamara Malleo alle 7.45 del mattino buongiorno Tamara buongiorno Fabio buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cristal Radio di Good Morning Milano finalmente è tornato il sole grazie a Tamara che ci illumina la giornata grazie Tamara sei il nostro sole grazie come è andata la pioggia ieri difficile difficile per tutti e per tutte immagini dipende dalla zona di Milano c'è chi ha sofferto di più di meno ma per esempio Monza era bloccata insomma è infatti bella critica bella critica tant'è che ti rubo un attimo ti rubo giusto un secondo perché al 3317853555 ci arriva un whatsapp di Adriana con tanto di foto allegate del Naviglio ad altezza Bucinasco bello pienone dice ieri comunque era peggio dunque sicuramente stanotte hanno fatto qualcosa speriamo che le chiuse funzionino e lo speriamo anche noi sappiamo che il corso di Vildoresi riesce a gestire molto bene il flusso dell'acqua dei navigli a Gaggiano potrebbe esserci stata una piccola esondazione che comunque ha controllata ma che insomma da qualche parte poi intanto bisogna farlo uscire quest'acqua così però insomma devo dire che il Naviglio come sempre non dà grossi problemi sarà un caso che è tutto fuori a vista per 60 70 80 chilometri a differenza del Seveso che è tutto combinato non lo so ma questo lasciamolo ai tecnici invece se piove devo dire che in realtà teatro ci vado tranquillo cioè anzi finalmente ho un'oretta un'oretta e mezza due di riposo dal casino dall'alluvione che c'è fuori quello sì il problema è raggiungerlo quello sì quello sì quello un pochino un po più di un po difficile diciamo così però sicuramente il anche se in realtà io dico sempre che il teatro va bene per ogni stagione sì 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 è ovvio quindi va bene allora se riusciamo ad arrivarci senza il gommone cosa possiamo fare questa settimana allora abbiamo tre come al solito tre teatri che cerco di distribuire per la città ma in realtà adesso andiamo anche rispetto alle storie che stanno sviluppando allora andiamo a campo teatrale quindi zona metropolitana verde udine o lambrate diciamo dipende sempre da dove volete arrivare diciamo da udine e da lambrate abbastanza facile da raggiungere poi a piedi campo teatrale accoglie come spesso fa ecco di fondo che una compagnia che da più di dieci anni lavora per raccontare storie che in qualche modo ci portano verso una riflessione che va al di là dei nostri confini diciamo conosciuti in questo caso ci trasporta con piccole apocalissi nel 1977 quando un gruppo quando realmente un gruppo di esseri umani decide di mandare nello spazio un messaggio agli alieni raccontandogli chi sono gli esseri umani cioè scegliendo una selezione di musiche immagini suoni il famoso disco d'oro è quello lì e allora la vera domanda che ci spinge a chiederci poi personalmente è che cosa manderemmo noi nello spazio per raccontarci cioè per dire a chi non ci conosce a chi è un altro essere nell'universo chi siamo che cosa stiamo facendo in questo momento cosa ci può rappresentare in questo momento anche perché la storia appunto di questo evento si connette poi a due storie appunto di due coppie che si raccontano che raccontano le fragilità dell'essere umano di quello che si chiede di dove vuole arrivare di quali sono i suoi obiettivi nel corso della vita di che cosa significa anche amare perché poi la parola amore si può declinare in forme molto diverse e per ciascuno può essere qualcosa di diverso e raccontarlo a chi non ci conosce e a chi fa parte di un mondo davvero diverso dal nostro può essere difficile, può essere complesso la musica ci può aiutare, i suoni ci possono aiutare, le atmosfere ci possono aiutare però poi è l'essere umano che deve in qualche modo tradurre quello che è e cercare di rappresentarsi attraverso qualcosa quindi è una riflessione molto interessante ecco di fondo guidata da Giacomo Ferraù e Giulia Diana ci porta attraverso Fabio Banfo che ha collaborato alla scrittura del testo ci portano insieme a gli attori e gli attori e le attrici di questa compagnia in questo mondo di piccole apocalissi ogni, diciamo così, ogni storia è una piccola apocalisse che ci porta ad una trasformazione che va raccontata e scopriremo come viene raccontata, saranno in scena fino a domenica 19 poi ci spostiamo invece ma poi questa storia qui del famoso disco che va qui nell'idea di poter mandare che cosa di noi a qualcun altro è veramente qualcosa di bellissimo è un viaggio dentro di noi in realtà non è tanto andare lontano perché devi capire, indagando su te stesso, che cosa può veramente rappresentare che cosa in questo momento ti può raccontare che cosa può dire chi siamo se mi facessi questa domanda adesso in questo momento non è facile effettivamente non è facile per niente è un po' come la ricerca dell'Ikigai quella roba lì non giapponese che devi cercare il motivo della tua esistenza quindi insomma non è facile infatti una delle protagoniste dice a tutti gli altri eh ma non si può non mandare i Beatles non si può non mandare i Beatles però chiaramente poi gli altri dicono eh no vabbè però c'è qualcun altro che magari potrebbe essere che potrebbe rappresentarci meglio potrebbe raccontarci qualcosa di diverso quindi c'è proprio tutto guarda e ti dico una cosa infatti nel disco originale non ci sono i Beatles al disco originale effettivamente non ci sono perché c'è di diciamo moderno dell'epoca c'è Chuck Berry la cosa più moderna che c'era dell'epoca eh no ma infatti allora c'è Bach, Mozart, Beethoven sì e quindi anche questo racconta molto eh sì effettivamente i Beatles sono stati per molti di noi qualcosa che ci appartiene profondamente però poi veramente ci rappresentano rispetto a un altro essere umano non lo so rispetto a un altro pianeta rispetto a un'altra dimensione se lo rifacciamo adesso mandiamo un estratto del tuo programma però te lo dico così almeno eh ma non abbiamo proposto niente Fabio però dovremmo essere un po' più concreti per far vedere che cosa è capace di fare l'essere umano quello dico forse è meglio mandare qualcos'altro dai seconda proposta seconda proposta ci spostiamo al teatro filodrammatici siamo in centro a Milano dietro la scala siamo a casa allo zoo è un testo di Alvi che è un autore inglese il teatro filodrammatici è famosissimo a Milano ma non solo per la funzione e la drammaturgia inglese sia di autori inglesi sia di testi di Bruno Pronasari che è uno dei due direttori artistici che produce testi originali ispirati diciamo così alla drammaturgia inglese l'altro direttore artistico è Tommaso Maddio che infatti è in scena insieme a Valeria perdonò e a Michele Radice che portano in scena la storia di una coppia il spettacolo si apre con una coppia che vive tranquillamente da tantissimi anni insieme improvvisamente lei decide di affrontare con lui un discorso sull'insoddisfazione che prova nei confronti del loro rapporto quindi di questo rapporto che è molto chiuso che non si riesce ad aprire al mondo che li fa diventare peggio di quello che sono che li fa vivere in una dimensione molto compressa lui improvvisamente dopo questo confronto si sente in qualche modo costretto e quindi decide di uscire quindi inizia la seconda parte dello spettacolo dove invece incontra questo personaggio molto feroce diciamo così molto con un sarcasmo molto forte che dimostra in qualche modo quello che è il mondo esterno quindi uscito dal mondo di coppia si confronta con un mondo esterno che è ancora più feroce di quello che ha trovato in coppia quindi è una dimensione in cui l'essere umano si trova a dover combattere contro tutto quello che ha costruito e che in realtà non corrisponde a quello che vorrebbe e quindi c'è una lotta interna in un mondo fatto di ingiustizia di disparità sociali in cui appunto tutto è raccontato con grande ironia come sempre fa la drammaturgia inglese con un grande uso della parola quindi c'è un testo molto forte ma anche molto denso perché in scena praticamente non c'è nulla ma ci sono questi tre personaggi che appunto diciamo così la coppia dialoga tra loro e poi ci sono i due personaggi maschili che dialogano tra loro e quindi questo dialogo porta poi a un'esasperazione dell'umanità in qualche modo e quindi ad una ferocia che esplode attraverso la parola e la curiosità è che questi due testi cioè la prima parte, il dialogo tra marito e mogli e la seconda sono stati scritti con vent'anni di differenza e dialogano insieme a vent'anni di distanza diciamo così quindi è una cosa un po' particolare a casa allo zoo lo trovate al teatro filodrammatici fino al 24 di maggio quindi per tutta la prossima da adesso tutta la settimana prossima chiudiamo dove andiamo? dove andiamo? nel teatro Elfo Puccini che ospita l'Angelo di Cobane l'Angelo di Cobane è un testo che ricorda cioè che ci riporta l'assedio di Kobe del 2014 in Siria e si parla di questo evento politico e storico attraverso la storia vera di una giovane donna che voleva studiare voleva diventare avvocato ma che inserito all'interno di un contesto storico e politico decide di diventare invece parte dell'esercito siriano quindi decide in qualche modo di prendere una strada diversa e ci si chiede interpretata dalla bravissima Anna della Rosa che porta in scena appunto una donna dilaniata in qualche modo da una decisione che deve prendere però noi ci chiediamo da spettatori e spettatrici questa scelta è davvero una scelta indipendente cioè è davvero una scelta voluta ad una scelta in qualche modo costretta dal contesto da quello che succede forse anche dall'idea di far parte della sua terra della sua storia di non abbandonare quelli che sono diciamo così il suo contesto davvero lei voleva fare quella scelta in quel momento come sempre il teatro non ci dà una risposta ci pone in maniera critica nei confronti di quello che succede chiaramente pensando che è una storia vera pensiamo anche all'idea di una donna che sicuramente fa una scelta ed è una scelta sua però ci chiediamo anche se quella scelta è davvero così indipendente o se è una scelta veramente frutto di un contesto e chissà quante scelte non sono indipendenti anche se crediamo di essere anche se lo pensiamo anche noi tutti i giorni magari facciamo delle scelte che non sono poi così libere quella parola libertà di cui ci riempiamo tanto la bocca che a volte però insomma non sappiamo neanche noi bene che cosa sia esatto e quindi bello dove? Elfo Cucini fermata a Porta Venezia ok quindi ci troviamo benissimo facilmente raggiungibili diciamo così benissimo queste sono le tre idee le tre proposte che Tamara ci dà per la prossima e questa settimana questo weekend e il prossimo ricordiamo però anche Tamara dove possiamo approfondire meglio con i tuoi approfondimenti scusa il gioco di parole sul teatro allora Teatro Mania va in onda il venerdì alle 16.40 su Milanao canale 191 del digitale e in streaming www.mediapason.it slash Milanao e invece è in replica il lunedì alle 20.30 perfetto Tamara grazie mille allora come sempre ci sentiamo giovedì prossimo buona giornata anche a te spero un po' più asciutta di ieri va bene speriamo per tutti te lo auguro dai buona giornata Tamara Malleo grazie mille ancora dei suoi consigli la ritroverete giovedì qui con noi e poi avete sentito appunto le varie indicazioni per seguirla ancora meglio nei vari momenti in cui durante la settimana appunto ci racconta il teatro che lei insomma lo vive veramente e lo fa diventare una nostra bella abitudine grazie mille ancora andiamo con i Nugenea con Marichia Bananarama Venus 8 e 13 minuti Crystal Radio Good Morning Milano oggi celebriamo ho deciso che oggi celebriamo Good Morning Milano in quanto Good Morning Milano come lo facciamo vi porto qui sono ben contento che hanno accettato il mio invito in realtà me l'hanno imposto l'hanno deciso loro tutte le persone che appunto sono dietro a questo show lei la conoscete già la nostra la nostra bionda anni 90 la conoscete lei e lei e Lisa Galmarini buongiorno Elisa ma buongiorno Fabio la nostra producer anni 90 per il look non perché c'è nell'anzione anni 90 non ha neanche dei pensieri di nessuno proprio quindi insomma super giovane come tutte le ragazze che appunto vengono qui a fare il tirocinio curriculare per l'università ma appunto lei diciamo che è la producer di questo programma abbiamo ancora un mese di programmazione insieme sei pronta sì sì è ancora lungo il percorso è ancora lungo il percorso percorso invece che sta vedendo la linea di traguardo è quello invece della nostra regista Maria Banfi buongiorno Maria buongiorno Fabio ciao a tutti sono passati tre mesi vuoi quando ci si diverte il tempo passa esatto il tempo vola quando ci si diverte hai visto allora come è andata Maria come è stata questa esperienza raccontiamo un attimo Maria tu che cosa studi e come è che sei finita qua allora io studio alla Yulm studio televisione sono finita qua a fare il mio stage curriculare è da tre mesi che sono qua da febbraio e ormai sta finendo questo periodo e io sono triste ecco nonostante il sorriso isterico forse ecco forse in realtà è quello se vedi ci sono quelle persone che anche i funerali cominciano a ridere senza motivo ci sono quelle persone che per l'isteria cominciano per l'imbarazzare quindi anche lei è una settimana che ride interrottamente senza motivo praticamente domani 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 è l'ultimo giorno domani è un altro giorno l'ultimo però l'ultimo però della mia la tua esistenza no non esagerare non esageriamo del mio stage dopodiché l'indirizzo è questo non cambia se poi senti la mancanza puoi passare di quattro macchie assolutamente vorrò a trovarvi tre mesi io e Lisa abbiamo già programmato quando vorrò a trovarvi ah bene avete già una vacanza il 4 giugno sono qua da ragazzi avete già una vacanza sapete che ci sono state due stagiste che sono state qua proprio anni fa nel 2017 credo parlo di Greta e Arianna che dopo una settimana che erano stavano facendo tre mesi anche loro dopo una settimana che hanno fatto lo stage hanno deciso e hanno fatto hanno prenotato una vacanza insieme a fine stage quindi il giorno il sabato dopo che ha finito lo stage sono partite per una settimana insieme non si parlano più no non è vero non è vero non è vero non è vero Nello dice la regista ce la prendiamo noi dice Nello va bene grazie Nello io sono adesso sono in cerca di lavoro quindi va bene perfetto perfetto infatti poi se volete giriamo anche i curriculum alle varie agenzie per il lavoro che vogliono dare un lavoro a queste ragazze come è stata questa esperienza tre mesi tre mesi belli tre mesi di nuove esperienze ho imparato un sacco di cose poi è stato anche bello proprio stare in contatto anche con voi conoscere Elisa Nina Fede un sacco di persone che mi hanno dato anche tanto comunque che mi porto un po' nel cuore poi anche te Fabio ovviamente attenzione non dimentichiamo ultimo ma non per importanza grazie grazie attenzione a dire le cose più scontate in assoluto perché rubate qualcosa a dire a quelli che vengono dopo quindi attenzione ve lo dico già a quelli che sono fuori dal vetro che arrivano dopo non vale dire quello che ha detto lui no dovete comunque avere una vostra hai imparato? sì devo dire di sì perché comunque cioè in università vabbè abbiamo fatto dei laboratori così ma alla fine di pratico è qua sul campo che si impara e questo strano strumento della radio Elisa cos'è la radio cioè adesso mi ricordo tu non avresti mai pensato di finire a fare la radio invece adesso pensi in una settimana è la seconda volta che sei dietro a un microfono assolutamente sì è la seconda volta e finirò tutti i giorni adesso dietro al microfono con Fabio mi sa che l'ha capito che finirà così adesso bello bellissimo è uno strumento importantissimo la radio degli strumenti importantissimi per comunicare da scoprire ecco però uno strumento che non è tanto legato alla vostra generazione oppure ce le facciamo noi queste pare uso anche parole ma secondo me no comunque dei miei coetanei così c'è gente che ascolta radio magari anche non proprio nella forma classica ma anche attraverso podcast però alla fine secondo me è uno strumento che fa ancora parte della nostra generazione per me è importantissima la radio la mattina io quando salgo in macchina puntualmente voluma palla e radio e fa proprio concordo devi dire devi dire radio crista certo gli altri non ci sono assolutamente ecco i tuoi amici che ascoltano la radio mi raccomando spaccagli le radio e mettgli solo il 96.2 ovviamente noi siamo così democratici e appunto vi imponiamo di ascoltarci e invece comunque 331-7853-555 se volete fare qualche domanda a queste giovani che stanno appunto facendo il loro percorso formativo qui con noi a Good Morning Milano beh siamo ben contenti di girare le vostre domande insomma le domande sono tante e soprattutto insomma trovare cioè come si arriva a scegliere di fare questo percorso insomma è un percorso non hai scelto di fare giurisprudenza non hai scelto di fare ragioneria o chissà altro andare a fare ingegneria è un percorso comunque nelle arti nella comunicazione un po' per passione ovviamente perché comunque cioè in generale il mondo della comunicazione secondo me ti deve appassionare perché altrimenti come un po' tutti i campi diciamocelo però ti deve proprio appassionare secondo me comunque essere curiosi soprattutto cioè un mondo in cui bisogna essere curiosi secondo me ah ecco vedi beh di curiosità tu Elisa ti nutri tutto il giorno il pane il sale l'acqua della tua vita assolutamente certo poi è vero secondo me sono d'accordissimo con Maria sul fatto che bisogna essere curiosi e soprattutto provare ad ascoltarci capire chi siamo nel senso cosa chi siamo a cosa vogliamo aspirare o comunque cosa vogliamo diventare diciamo o anche proprio come ci sentiamo nel senso che mi piacerebbe secondo me sono una comunicatrice penso di essere una comunicatrice mi dovrei avvicinare a qualcosa che mi aiuti a comunicare a scrivermi meglio a ascoltarci un po' di più secondo me non è male che qualcuno che vuole comunicare in realtà parte dall'ascoltarsi di più complimenti ecco queste sono pensate le saggezze che mi arrivano tutti i giorni da queste ragazze che molto spesso noi definiamo ah sì i giovani d'oggi la genzetta ma sì cosa vuole che ne sappiano tutto il giorno su tiktok ed è vero anche però non è solo quello invece non è solo quello Maria Maria diciamolo tu sei una star di tiktok no? no allora non io io sono solo il portale su cui potete vedere mio padre ovvero la vera star di tiktok che ultimamente non sto neanche facendo tanti diciamo tanti video perché non lo vedo quasi più perché è sempre in giro per il lavoro però se volete seguire le tiktok scusate i miei tiktok per le barzolette di mio padre potete seguirmi a marie banfi marie banfi sì scritto così marie banfi ok così se volete barzellettone ve lo assicuro cioè proprio ah guardate io non me lo perderei me lo metterei nei preferiti si può mettere nei preferiti anche nei favorites nei favorites fatevi un pinterest apritelo solo per mettere dentro tutte le robe di marie banfi marie banfi appunto e le barzette di suo papà va bene maria allora io ti ringrazio grazie dopo torno in maria per un saluto finale ti rimando in regia così ci prendiamo qualcuno dalla regia che invece viene qua a farci compagnia tu rimani ancora qui con me che mi rendi tranquillo e poi dopo invece abbiamo ancora tante tanti altri che arriveranno qua appunto la canzone che va adesso la scelta maria possiamo dirlo sì ok miley cyrus va bene ci piace con flowers di nuovo qui dopo maria cyrus con un altro un altro del backstage un altro di quelli che lavorano dietro le quinte lo lascio Elisa presentalo tu il pezzo forte oggi è l'unico uomo oltre a fabio l'unico ragazzo e lì non c'è l'oltre a fabio perché la fabio non è più un ragazzo l'unico ragazzo che abbiamo nel nostro gruppo di amici ormai amici possiamo dire abbiamo anche un gruppo whatsapp che si chiama le ragazze di milano news e Federico fa parte di questo gruppo ed è proprio Federico Martinetti qui in nostra compagnia buongiorno Elisa grazie per la presentazione buongiorno a tutti ecco Federico ma non ti avevamo detto che dovevamo andare in onda oggi sì ti avevamo detto no perché tutti ti sono vestiti molto bene e volevo capire com'è che non è arrivata la comunicazione a te anche questa mattina purtroppo quella è stata l'ultima dei miei pensieri cioè hai visto che Elisa ha le mostrine di diamanti Elisa ha organizzato per questa cosa qua diciamo che io non sono ancora così preparata regia fammela vedere un attimo le spalline di Elisa guarda che roba le spalline di Elisa che sono tutte tempestate di diamanti cioè vabbè comunque e le tue spalline Fede sono bruttissime sono belle dentro no Fede è bello sia dentro che fuori dai solo complimenti solo complimenti almeno una volta una volta in tre mesi ma perché siamo in onda dietro le quinte in realtà è diversa la situazione lo sappiamo tutti Fede tu non finisci questa settimana tu hai un mese davanti a te appunto tu anche tu studi comunicazione cosa studi e com'è che sei finito qua allora io vabbè io innanzitutto non sono milanese sono piemontese vengo da Mondovì provincia di Cuneo non si sente non si sente in realtà si sente credo è benissimo e cosa dire ho fatto trennale in economia aziendale a Cuneo mi sono spostato a Milano a ottobre 2022 sto facendo comunicazione pubblica ed impresa appunto sono qua come tutti gli altri stagisti per fare tirocinio curricolare e finisco con Eddie a fine giugno a fine giugno dovrà sopportarmi ancora per un po' ma non credo sia un problema ancora per un po' alla fine si vogliono bene ma la cosa interessante è che tutto quello che vedete sui nostri social sono appunto passano dalle mani nel bene nel male passano dalle mani del buon Federico che come sta andando questa esperienza bene bene è un'esperienza formativa sta fermo non dai in giro vieni qua fermati scusa non sono abituato a pressione della diretta ok comunque è un'esperienza formativa che il cui punto principale positivo credo che sia proprio lo stare a contatto con le persone il mettersi in gioco quando serve comunque entrare a contatto anche con diverse realtà sempre è una cosa positiva è un ambiente dinamico diciamo questa è la grande forza secondo me di questa cosa qua avete fatto anche la civil week nel vostro cosa una settimana tre giorni in giro per la città conoscendo realtà che erano completamente sconosciute a voi anzi per uno che viene fuori da Milano magari sta anche quanto è complicato per uno che viene fuori da Milano capire questo mondo milanese ma come ho detto prima comunque diciamo è un'occasione per mettersi in gioco per scoprire queste nuove realtà poi appunto prima facevo esattamente riferimento alla civil week quando dicevo che è un ambiente dinamico che ti fa entrare a contatto con le persone perché è stata sicuramente un'esperienza positiva e edi può confermare ci ha ci ha fatto divertire ci ha formato e ci ha fatto scoprire anche nuove cose molto interessanti e ci ha fatto anche sconfiggere le nostre paure questa civil week esattamente perché risa raccontaci cosa è successo raccontaci un po' le sue paure io mi dissocio entrambi siamo terrorizzati dalle api e quindi ci hanno obbligati a metterci davanti i fiori dove svolazzavano le api a dire fermatevi qua e guardatele guardate che non vi fanno niente come è finita in ospedale perché tornando da quell'evento lì ci siamo fermati a fare benzina ed incredibilmente ho trovato un'ape che è uscita dalla sua macchina vicino al serbatoio e mi sono messa a correre e l'ha terrorizzata vuol dire che vi siete presi l'ape dovete riportarla all'evento però non mi ha fatto niente scusa non ci ha fatto niente però io ero lì che correvo mentre il benzinaio se avete visto una 500 in un benzinaio con una bionda che ci continuava ad agire in tondo non era una challenge di TikTok ma era lì terrorizzata da un ape Federico tra l'altro non mi ha aiutato era lì che rideva ah bene perché non sapevo come affrontare la situazione sarei sceso comunque a fare benzina io nel caso a cui fosse servito ecco c'è stato quello vi siete messi anche in situazioni che magari non erano quelle cose da voi se ad un certo punto tu appunto Elisa sei anche finita in video a fare interviste e tutto tu hai fatto il camera a me ad un certo punto come c'è cose che non avevate mai fatto fino adesso sì è stato esattamente quello che intendevo prima col mettersi in gioco con provare comunque nuove cose è stata un'occasione per provare credo che sia riuscita bene comunque poi la fortuna in realtà della Civil Week era che tutti i contenuti non sarebbero andati in diretta quindi magari avevamo la possibilità di rifarli di riprovare quello è stata una cosa positiva diversamente da questo istante esattamente da questo istante in cui se sbagliamo purtroppo tutti se ne accorgeranno e rimarranno gli annali rimarrà esattamente in questi casi cosa ti aspetti dal prossimo mese di stage adesso ormai che sei imparato come si dice da queste parti magari che arrivi a un'altra quota azzurra come me così almeno stringo amicizie anche con uno del mio sesso non c'è un problema avere solo ragazze però mi farebbe piacere avere anche un altro ragazzo con cui ogni tanto è un po' complicato insomma in certi discorsi facciamo fatica a entrarci dentro faccio fatica proprio a inserirmi però sto diventando una di loro come ha detto Elie prima sono una bimba di Milano News anche io quando Maria inizia a parlarci dei suoi vestiti della sarta noi facciamo un po' fatica effettivamente a entrare nel discorso però raggiungeremo la maggioranza anche noi secondo me prima o poi bene bene Fede grazie allora io adesso mando invece una canzone che hai scelto tua hai scelto proprio poco prima di entrare in onda mi hai detto che ti piacerebbe Annalisa no ti piaceva un altro come si chiamava? Simba 22 Simba 22 che però ignoriamo completamente d'esistenza purtroppo non è ancora nei registri però come ho detto prima arriverà 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 anche Simba 22 ma invece adesso andiamo con Annalisa abbiamo scelto una canzone che tu hai detto sì sì quella lì mi piace Vento sulla Luna confermi? Vento sulla Luna sì 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 non l'ha mai sentita è una di quelle che ascolto meno probabilmente ma per mettere quelle più mainstream dai credo che al pubblico piacerà è un po' la versione indie diciamo sì è una via di mezzo non è sinceramente non è neanche la peggiore che ha fatto probabilmente ah perfetto ok allora dopo questa bellissima presentazione vi lasciamo con Annalisa Vento sulla Luna insieme a Darkom appunto qui a Good Morning Milano poi piccola pausa pubblicitaria che torniamo perché appunto i nostri collaboratori nelle nostre colonne portanti di Good Morning Milano sono ancora tante e tornano qui in studio con noi dopo di noi appunto c'è anche Nina qui in studio con noi poi insomma vediamo se riusciamo a portarci anche Francesca e poi vediamo Billy Eilish con Bad Guy il nostro Bad Guy è già andato via appunto Federico l'unico Bad Guy che abbiamo l'unico Guy che abbiamo l'unico ragazzo che abbiamo quindi non può essere sia Bad che Good non ci interessa in realtà che è l'unico ma invece Elisa appunto nostra producer ora seconda voce di Good Morning Milano per questa mattina presentaci la nuova graditissima ospite che è in studio con noi eccoci qua siamo in compagnia di un'altra delle fantastiche Girls di Good Morning Milano abbiamo Andrina Deleon facci sentire com'è il rugito Deleon che c'è in te aiuto ciao buongiorno grazie benvenuto Andrina Deleon Rosario Camerita Silva no quello non andava detto però ne ha solo uno ne ha solo due di cognomi non ne ha 18 ogni volta la bullizzo così chiedo scusa è quasi finita è quasi finita Andrina sei felice? no in realtà sono molto triste non per te Fabio grazie sempre gentile sto scherzando mi mancherete mi mancherete tutti quanti tu Andrina hai fatto uno stage abbastanza particolare perché è stata proprio una funzione è avuto proprio una funzione particolare interno di questa redazione per quasi due mesi e mezzo come sei arrivata tu cosa studi come ci sei arrivata appunto a questa esperienza e cosa poi ci portiamo a casa? allora io studio scienze umanistiche della comunicazione in statale e sono venuta qui perché dovevo fare appunto stage curricolare come tutti noi e in realtà mi ero proposta per un'altra cosa ovvero fare i social ma pensa a termine ma insomma dopo diciamo a termine ho preferito Federico pensa quanto non siamo capaci di fare il nostro lavoro no in realtà è perché ho fatto una brutta impressione al colloquio me ne rendo conto Andrina non ha fatto un colloquio eccellente devo dire la verità ma 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 però ci sono stata simpatica credo Fabio fanno tanto e infatti sono qui tu hai inventato un posto per me più o meno sì ma ci hai salvato la vita quindi insomma figurati tu e quindi sono venuta a fare la event producer questo grande titolone comunque è stata una bella esperienza perché ho dovuto aiutarti a organizzare degli eventi e è stato bello perché mi sono davvero messa in gioco perché è qualcosa che cioè nel senso mi sono dovuta esporre perché io sono molto timida e invece ho dovuto contattare le persone parlare parlare con la gente pensa quanto ho capito bene anch'io una timida che è presa a fare una roba dove hai dovuto fare un penso centinaia di telefonate però in realtà ecco mi sono resa conto che mettersi in gioco ogni tanto fa bene ho scoperto qualcosa anche di me perché mi è piaciuto in realtà sì quindi e quindi anche questa esperienza di questa mattina che se te l'avessi proposta due mesi fa ma neanche per sogno neanche si davo dei soldi lo faceva probabilmente e invece e invece lo stiamo facendo e bello devo dire allora diciamo la verità lo stage curriculare in alcuni casi delle vostre è proprio una costrizione diciamoci la verità nel senso che avreste avuto decisamente bellissimo fatto a meno nel senso come è andata però alla fine nel senso ti saresti aspettato che un obbligo diventava poi una cosa piacevole spero nel senso mi auguro come no è stato molto divertente mi sono trovata molto bene e sì effettivamente avrei tanto voluto non dover fare immagino infatti avevo ansia che me la sarei vissuta molto male e invece sono molto contenta e devo dire che forse è l'esperienza migliore che mi sarebbe potuta capitare forse a livello di distanza mi commuovo no Elisa io mi devo commuovere non tu io sto già piangendo perché insomma ho incontrato tante belle persone e soprattutto non sono stata giudicata nel fare una cosa che comunque per me era nuova mentre magari in un'altra realtà sarebbero stati più severi la c'è stata che abbiamo gente che ha fatto lo stage week e poi ci ha ripreso perché non siamo stati abbastanza severi e nel posto in cui vanno li trattano male noi li trattiamo bene siamo stati ripresi noi perché li trattiamo bene no però impariamo senza l'eccessiva pressione che potrebbe esserci altrove la cosa più bella che hai fatto in questi mesi cosa è stata? la civil week ah dai no mi sono divertito un mondo in realtà è stato molto bello poi appunto mi sono messa sempre in gioco appunto fare una cosa nuova e poi penso che abbia anche rafforzato i nostri legami non lo so quindi è stato molto divertente la cosa più brutta? quando ho iniziato le 10.000 chiamate dal primo giorno effettivamente tu hai iniziato il primo giorno subito al telefono esatto e soprattutto alcune chiamate con gente che non sapeva chi fossi o che cosa gli stavo presentando quelli di civil week se lo aspettavano quelli del primo evento no e quindi insomma è stato un po' traumatico però ti sei sentita un po' quelli del consente che mandiamo giù esatto però non vendevi niente quindi almeno quello è vero almeno quello almeno quello e anche tu non sei di Milano però c'è anche tu c'è una storia interessante nel senso che ti ha portato qualcosa che ti ha portato qui a Milano a studiare qui a Milano o com'è questa Milano? sì allora io vengo da Ischia quindi Milano è tutta un'altra cosa una realtà completamente diversa sai come si dice no? se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Berry quindi non c'è neanche col mare diventerebbe Ischia capito? quindi proprio Ischia neanche col mare quindi niente anche se devo dire mi ha fatto stranissimo che qua Ischia la conoscono tutti e beh sì ma credo che sia anche per il numero di pizzerie che si chiamano tipo piccola Ischia Ischia Ischitano cosa del genere sono una maria a Milano di pizzeria la bella Ischia e quindi nulla l'esperienza è completamente nuova però è stato ovviamente molto bello perché comunque ti confronti con un mondo più grande e capisci anche che fuori la piccola isoletta c'è un mondo com'è questa Milano? allora nell'ultimo periodo l'ho rivalutata all'inizio cioè nel senso ovviamente ti senti sola e spaifata però poi ho ovviamente fatto amicizia ho conosciuto tante persone e ho imparato anche a scoprire di più la città anche perché appunto vai in giro vedi tanti posti nuovi quindi Milano è bella comunque mi dispiace lasciarla adesso eh perché adesso invece però sei così bella che però adesso appunto dovrai lasciarla invece però perché tanto bella ma chiede tanto vero verissimo quindi non è facile vivere a Milano in realtà quindi quindi finiti gli studi appunto se non si trova subito un lavoro bisogna però chissà tu adesso dovrai fare la tesi giusto quindi hai un periodo in cui ovviamente non potrai lavorare quindi dovrai per forza tornartene scriverò dal mare ma beh diciamo che poteva stati peggio esatto non posso lamentarmi ricordiamo sempre che Federico è di Mondovicio poteva andarti peggio effettivamente effettivamente Elisa lei ha detto che ha trovato tanta gente ha conosciuto tante persone però non ha conosciuto quella persona non ha conosciuto quella persona quindi cari ascoltatori so che è un tema che è un tema che tu ce l'hai dentro questo tema sì 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 allora abbiamo qui con noi Andrina Deleone dall'alma latina quindi importantissimo è briosa è spumeggiante è un po' introversa ma se trova le persone giuste il momento giusto riesce a tirare fuori il meglio di sé quindi cari lei è come il sole al tramonto nel senso che illumina tutto senza essere così accecante così che lei arriva lentamente ma illumina la giornata poi il sole durante il tramonto è il momento più bello è infatti romantico rosso mamma mia quanti paroloni tutto questo per dire che cosa tutto questo per dire che cosa cari ascoltatori la nostra Andrina è in cerca della sua anima gemella beh Andrina qual è il tuo prototipo di ragazza no allora non facciamo queste cose per favore per chi volesse ascoltare comunque ebbè a sto punto piace alto allora l'unica cosa che chiedo è alto alto e poi vabbè gentile bravo ragazzo nulla di più non ho grandi pretenti ma adesso come non ho grandi pretenti l'importante è che respiri esageriamo sembrava cioè sembrava un po' così effettivamente alto e che respiri alto e ancora vivo diciamo va bene è il momento ci immaginiamo già Andreina sull'altare che barca la navalta però non so se lo mette giusto giusto ho messo gli uniti di slot dei Beatles apposta però non so se metterebbe questa secondo me Andrina al suo matrimonio è vero forse no no ho paura che metterebbe altro e sai cosa allora te lo faccio sentire secondo me cosa metterebbe la nostra cara Andreina al suo eventuale ma con un milanese pensa che no no eh cioè diciamo Milano ti piace così tanto ma non fino a quel punto esatto non così tanto povera Andrina vabbè Andrina tesi che farai tra quanto la tesi ce l'hai è breve tu se tutto va a matrimonio ho le partecipazioni mi invito tutti quando mi preoccupate a novembre se tutto va bene se tutto va bene a novembre sappiamo già il tema no dobbiamo ancora decidere oggi ho il colloquio col professore quindi si spera ma hai delle proposte o lui ti dice cosa fare nel senso che ha già deciso lui e tu dovrei dire solamente sì non ho proprio le idee chiarissime però vado a vedere magari ne discuteremo tema più o meno cioè area scusa diciamo area geografica in un certo senso in realtà il professore è quello di linguistica io vorrei fare qualcosa inerente alla scrittura nel mondo della pubblicità però devo vedere vedi 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 interessante interessante va bene e allora non credo che appunto Andrina andrebbe all'altare o neanche dal suo relatore al suo relatore a parlare con All You Need This Love The Beatles di sottofondo ma o a detta sua forse potrebbe esserci invece una Jenny from the block anzi una Jennifer Lopez on the floor grazie mille a Nina ci vediamo dopo per i saluti finali allora ciao Jennifer Lopez on the floor Jennifer Lopez on the floor e siamo arrivati quasi alla fine ma non prima di avere qui in studio con noi un'altra ragazza che solo due settimane ha fatto qui con noi venerdì finisce anche lei ma perché lei sta facendo una cosa un po' diversa da voi Elisa giusto? sì cosa sta facendo cosa sta facendo non sa neanche lei ci fa compagnia il PCTO che cos'è il PCTO cos'è il PCTO non ho la mia idea di cosa voglia dire la sigla quella che una volta era l'alternanza scuola-lavoro che in questi casi benvenga o no Francesca buongiorno buongiorno Fabio allora te lo avessi mai pensato prima di tutto di fare il PCTO e finire in onda in radio e in diretta in tutta la Lombardia no ecco è così invece l'ultima cosa immaginata e invece è qua tu studi stai facendo la quarta quarta superiore è maggiorenne quindi non mi rompete le scatole è maggiorenne e poi venire in onda come sei finita qua però nel senso in realtà un po' per caso però insomma la tua passione forse ti ha spinto raccontaci un po' dai allora io studio sono al quarto anno di servizi culturali dello spettacolo che comprende una serie di di materie di indirizzo tra cui cinema e audio video quindi mi occupo anche di montaggio infatti sto aiutando la Mary in questi giorni a montare le dirette e io ho una grande passione per il cinema e mi ha spinto a a fare questa scuola e poi grazie ai miei professori sono riuscita ad arrivare qua allo studio tu hai anche una grande passione per la musica però giusto perché hai un tu sei una musicista un passato non un passato anche un presente tu cosa suoni? io suono corno francese suonavo in realtà perché ho smesso però suonavo corno francese e pianoforte ecco capito tu cosa suoni io attualmente i tassi del computer neanche il citofono perché c'è il codice per entrare quindi neanche il citofono suoni tra l'altro la francesca è stata importantissima per noi a livello musicale perché ci ha illustrato il significato del liutaio che da ignorantissimi noi non sapevamo ancora questa cosa pensate siamo prossimi alla laurea non sapevano cos'è un liutaio anzi non è cos'è il liuto perché Elisa ancora adesso continua a dire che secondo lei è così il liuto che strumento è? secondo me è uno strumento a fiato ecco invece Francesca invece Francesca cos'è l'aiuto? è uno strumento a corde ecco poi si può soffiare sopra se vuoi ma non suona ok puoi sbuffare se non sai che facci suonarlo ma non suona ok va bene l'altra scuola adesso facciamo un passaggio molto serio voglio fare con te è una di quelle cose che spesso e volentieri vengono un po' additate però come una roba che non va bene ci sono state anche delle situazioni molto gravi in cui dei ragazzi sono finiti anche cioè ci sono state anche dei morti per i PCTO insomma è una situazione però tu mi dici almeno da quanto ho capito che voi eravate tu e altri due compagni spingevate tantissimo invece per questa esperienza perché? sì io con altri miei compagni spingevamo tantissimo sul fatto di fare il PCTO e di andare in azienda e di spostarci oltre quello che è il luogo scolastico perché penso sia importantissimo per capire un attimo come approcciarsi al mondo del lavoro anche perché una volta finite le superiori chi non va avanti sarà praticamente catapultato in questo mondo quindi penso che sia utile farlo anche durante la scuola così inizia a capirlo vai un po' piano piano mi dici nel tuo tipo di scuola è fondamentale è importante che ci sia sì benissimo allora ragazzi io devo chiudere mi spiace Francesca devo chiudere un po' velocemente anche perché voglio per i saluti voglio tenervi tutti qui quindi rimani qua in studio così che siamo tutti qui in fondo per i saluti prima però una canzone che tu hai visto che era già in scaletta e hai detto no no ma lasciatela perché mi va bene tra pensi corno francese cosa suoni ad esempio quando suoni il corno francese quando suonavi il corno francese qual era il tuo cavallo di battaglia era ho fatto l'Aida di Giuseppe Verdi va bene come sfondi la porta aperta con l'Aida bellissima bellissima comunque ecco però poi quando hai visto i pinguinitattici hai detto roba mia quindi questa cosa è bella è un spazio molto ma è bello questo noi abbiamo un'idea preconcetta di queste generazioni che è completamente sbagliata dopodiché possiamo dire dove eri qualche sabato sera fa senza fare luoghi precisi perché non so se la dico sono stato ancora indagando ero una serata tecno ecco che è durata quante ore quanti giorni in realtà tre giorni ecco c'ha capito corno francese rave party e pinguinitati c'è tutto capito c'è tutto c'è tutto un mondo che posso dire ce l'avevamo anche noi adesso facciamo in figa a dire che no perché no ascoltiamo i Beatles ascoltiamo solo la roba d'altro ma non è così non è così e questo è il bello appunto dell'essere giovani ed è questo forse quella roba bella che dicevi ma i miei tempi è ovvio che i miei tempi è più bello avevo 20 anni grazie alla musica va bene andiamo avanti allora pinguini tattici nucleari grazie mille Francesca rimani qui Elisa rimani qui anzi adesso invitiamo tutti gli altri a venire qua dentro per fare i saluti finali 9.01 è tardissimo ma guardate quanta bella gente c'è in questo studio allora vi vorrei un saluto generale date un bel ciao a chi ci sta ascoltando la casa ciao ecco e allora grazie mille a Ninna grazie mille Elisa Federico Maria e Francesca grazie mille da domani domani è l'ultimo giorno appunto di Nina e di Maria e di Francesca anche vero tutte e tre domani ci salutate ragazzi noi invece rimaniamo qua mi raccomando mi raccomando ci manchete tantissimo torniamo a trovarci tornete a trovarci speriamo 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 in ritardissimo diamo la linea ad Ambrogio Curti anzi date voi date la linea a Ambrogio Curti dite dopo di noi dopo di noi Ambrogio Curti con con senti questa Ambrogio ti abbiamo fatto il promo mi raccomando registra vai in radio riprendi la registrazione perché questa te la devi portare a casa dai 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 dopo di noi Ambrogio Curti con senti questa e allora grazie a tutti voi di averci ascoltato domani comunque in diretta qui dalle 7.09 su Crystal Radio ancora con Good Morning Milano ancora per un giorno con Nina Francesca e Maria e poi comunque appunto noi saremo qua sempre fino a fine giugno per raccontarvi Milano la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città grazie mille ancora oggi alle nostre ragazze e ragazze per essere stati qui con noi grazie davvero grazie grazie Fabio e anche appunto grazie a voi che ci avete ascoltato così che insomma possiamo trovarci di nuovo domani mattina qui ancora con i giornali con i whatsapp 3317853555 FM96.2 DAB Plus applicazione per iOS Android sito internet anzi mi raccomando adesso Maria e Francesca vanno di là perché dobbiamo tagliare tutti i pezzi giusto? ovviamente dobbiamo tagliuzzare tutti i pezzi della diretta per appunto il nostro podcast che finisce anche su Spotify grazie mille ciao a domani ciao ciao ciao